Gli agenti della squadra mobile della Polizia di Frontiera Area Napoli-Capodichino, all'esito di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione nei confronti di 13 persone a vario titolo impiegato in una società di service operanti in ambito aeroportuale. Durante l'attività sono stati rinvenuti diversi beni oggetto di precedenti denunce. Le attività di indagini sono state avviate in seguito alla presentazione di circa 70 denunce di furto su bagagli da parte di passeggeri in arrivo e in partenza presso lo scalo partenopeo e riferibili agli anni 2019 e 2020. I furti prevalentemente operati all'interno delle stive degli aeromobili di voli low cost hanno interessato in particolare i cosiddetti bagagli disguidati, ovvero quei bagagli inizialmente dichiarati come a mano e che poi, per motivi di policy della campagna aerea, ad esempio riempimento delle cappelliere, in extremis e nel corso delle operazioni d'imbarco venivano destinati all'estive, rendendo così difficoltoso da parte del passeggero il recupero di oggetti di valori ivi precedentemente allocati. Inoltre, il personale della Polizia di Frontiera di Napoli Capodichino, all'esito di un'articolata indagine, ha dato esecuzione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un dipendente dell'esercizio commerciale ubicato nell'area partense dello scalo partenopeo. In seguito a numerose denunce di furto presentate dal responsabile dell'esercizio commerciale, è stata avviata un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha consentito di individuare ed identificare l'autore in un addetto alle vendite che, eludendo i controlli ed approfittando del proprio incarico, sottraeva la merce dal negozio per poi rivenderla anche ad altri dipendenti aeroportuali. Nel corso della citata attività sono stati altresì denunciati due passeggeri e tre dipendenti aeroportuali, ritenuti autori di alcuni furti occasionali. I furti, perpetrati nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, ed aventi oggetto profumi, vini di pregiato valore, ammontano a circa 30.000 euro.